Salve a tutti amici e tifosi del Catania, benvenuti a questa nuova puntata di Stinto Rosso Azzurro, live dalla nostra pagina Facebook per commentare, per analizzare, per dare un senso a quelle che sono state le dichiarazioni di Lomonaco di stamane, la conferenza stampa che ha decretato le sue dimissioni, che comunque ha fatto parlare per tanti temi, perché sono intervenute anche le autorità comunali, l'amministrazione comunale, Salvo Pogliese, altri organi, comunque a cercare anche di trovare il modo di intervenire, anche se forse magari alcune volte lo si è fatto in maniera inopportuna, anche perché il Catania in questo momento ha bisogno di una mano, ha bisogno sicuramente dei tifosi, sia da un punto di vista emotivo, quindi morale, come abbiamo detto la scorsa puntata, ma soprattutto da un punto di vista economico, anche perché è inutile mai negarlo, la situazione è critica anche da questo punto di vista, ancora più perché comunque adesso senza un amministratore delegato che possa aver fatto bene o male, comunque adesso bisogna ritrovare qualcuno che lo sostituisca al più presto per evitare il peggio, anche perché poi i numeri parlano chiaro, questo è molto alto, sicuramente avremo da commentare, da analizzare, come sempre far parlare voi, perché i tifosi devono dire la loro, devono farsi sentire, devono uscire un po' quell'istinto rosso-azzurro più forte di prima, se già non lo era, quindi noi ci ritroviamo dopo la nostra consuetta sigla per parlare di questo e molto altro ancora, a dopo. Grazie a tutti. Attenzione a Plasmati, è solo contro Marchisio, il suo aggancio, prova ad allargare, una gran palla per Izco, 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 in area di rigore Izco, Izco, 2 a 1, al 42esimo. Attenzione, la vota luce sulla pallone Martinez, vediamo se a fondo va verso la bandiera al calcio l'angolo, affonda Martinez, affonda bene, Martinez, 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 rete, rete è un gol, capolavoro, è impazzito il Cipani, 3 a 1 per il Catania. Adesso il morale non assiste alla squadra di Ballardini, intanto c'è questo incredibile che gol, che gol, non ci credo, mascara meglio di Maradona e Beckham. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. e crescere gioventù. Ma duri mesi ci posso fare a piririti io cari nesta specie se ne ci. Nuova a gunuti sull'urdo ceno c'è una muri che hanno un freno che sta spittando a te. Taglia, taglia, veniti a picchiari punti e pari a scrittari questa muri che mi spacca rossa spacca rossa taglia, 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 taglia i cubi, picchiari in cereano a tonnari questa uccicata centipotti, centipotti. fila e fila di stanno le passioni d'amonizia ai unitari nel duvento centipotti. E' un esempio che ci ho passato al migliato e il popolo è un po' e brillato cadano i sacerdoti. Ma due osi lunghi portugani in Gratania e in Luguri questa genti che c'e 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 più c'e più a curare il popolo è un po' e brillo e la strada in grattane questa sforza la città Dai gattaglia venimi a picchiari, non ti farei aspettare, mi saluri che mi smacca lossa, smacca lossa. Dai gattaglia tarri, non ti farei aspettare, questa musica tu senti pochi, senti pochi. Dai gattaglia venimi a picchiari, non ti farei aspettare, questa musica tu senti pochi, senti pochi, senti pochi. Dai gattaglia tarri, non ti farei aspettare, questa musica tu senti pochi, senti pochi. Dai gattaglia tarri, non ti farei aspettare, ma non ti farei aspettare il gioventù. S'è un bugatti nel di me fa mani, se ci chiede un po' a costa di, ne vanno so un nio u Dai gana mia venina, piccari, non ti fari a scitari, non stai muo ne gami, spaccalostà, spaccalostà Dai a nari a tari i cubi e ghiari inseriatu a tunnari Questa musica tu senti così, senti così Dai a nari a nari a pigiari, non ti farei aspettare Questa turi ganni spaccalossa, spaccalossa Salve a tutti amici e tifosi del video Benvenuti a questa nuova puntata di Sinto Rosso Azzurro La numero 187, puntata che abbiamo dedicato Solo ed esclusivamente alla conferenza stampa di Pietro Lomonaco Una conferenza stampa che ha sicuramente dettato parecchi temi importanti Sui quali magari soffermarci due minuti Magari andando anche a collegare Quello che nelle scorse settimane abbiamo già sviscerato Andando a leggere il bilancio del calcio Catania Al giugno 2018, lo ricordiamo Quindi alla stagione che comprendeva Quindi la stagione di Lucarelli di due anni fa Quindi si leggevano già dei numeri importanti Che hanno già spiegato il peggio Adesso diciamo che la situazione è in stallo Ma con un amministratore delegato in meno Quindi comunque a dirà di quello che possa essere adesso il sondaggio Che abbiamo già mandato in circolo questo pomeriggio Su Instagram Sul fatto che se siete d'accordo o meno In merito alle sue dimissioni Alla dimissione di amministratore delegato Pietro Lomonaco Comunque bisogna trovare adesso delle soluzioni Perché il Catania ha bisogno di soluzioni Non di dimissioni Le dimissioni Possiamo andare Ora andremo ovviamente a sviscerare ogni tipologia di tema Relativo alle sue dimissioni Però è anche vero che comunque adesso serve gente che ha voglia di fare Le chiacchiere poi stanno sempre a zero Come è facile dire Però è troppo facile poi Apprezzare tra virgolette Chi magari dall'alto di una carica sociale Non indifferente Punta il dito contro A questo punto Diciamo Non mi sembra favorevole Non è favorevole per il Catania Né per nessuno Anche perché ripeto Serve gente che fa Non gente che dice Né che giudica Detto questo io saluto comunque Giuditta Ciao a te Pietro E andiamo subito con le direttive A far conoscere a chi magari ci ascolta per la prima volta Come Riascoltarci Come contattarci Come seguirci tramite altri social network Insomma Tutto quello che è il mondo di Istinto Rosso Azzurro Come sempre vi ricordo Vi ricordo il nostro sito www.istintorossoazzurro.com Dove troverete tutte le news riguardanti il Catania Quindi Pre partita Post Top e flop E tutte le nostre rubriche Vi ricordo anche la pagina Facebook Dove state seguendo la nostra diretta Ascolt Istinto Rosso Azzurro E il nostro gruppo Facebook Istinto Rosso Azzurro Fan Group E i nostri vari account social Come Twitter Istinto underscore Ra Instagram Istinto underscore Rosso Azzurro Dove mettiamo sempre Un sacco di sondaggi Quindi rispondeteci Mandateci un vostro feedback Oggi si dice così Feedback Sì Vabbè Comunque è un modo per apprezzare Comunque Il vostro parere Dire la vostra Comunque è importante E anche il nostro canale YouTube Ascolt Istinto Rosso Azzurro Dove potrete rivedere le nostre repliche della puntata Vi ricordo anche che non ci siamo improvvisati muratori Ma abbiamo comunque fatto il muro rosso azzurro E dove voi potete porre le vostre domande O magari un vostro pensiero Esprimerlo E noi lo leggeremo non solo in seduta standa E vi risponderemo Ma lo riproporremo in puntata Come abbiamo detto prima Il Sinto Rosso Azzurro è un'associazione Che cosa vuol dire? Il Sinto Rosso Azzurro fa da ormai un bel po' di tempo Dei bei numeri E magari per quelle aziende Medie o piccole aziende Che vogliono allargare gli orizzonti Al mondo della pubblicità social E tutto quello che ne le concerne Basta contattarci E diventare un nostro socio Come? Scaricando la domanda di emissione socio E il modulo testera socio Effettuare il pagamento della quota associativa Ovvero del pacchetto Che desiderate acquistare Che fa più per voi In base ai servizi che vi interessano Ovviamente sono tutti iscritti Basta che andate nella pagina Sì c'è la pagina associati Più facile di così Si muore Oppure basta che ci contattate Giuditta contattate me Contattateci tramite la nostra pagina Facebook Messaggio privato Messaggio normale Il 3409622807 Come volete Insomma Potete contattarci E dire Ragazzi ma che cosa ci proponete Diteci la vostra Noi vi diamo anche delle soluzioni Anche consulenza Ripeto Questo è anche il mio lavoro Nello specifico Non faccio Non mi occupo di calcio Catania Ogni giorno Ecco Questo è fuori di dubbio Però Lo facciamo sempre con tutta La passione La precisione E l'onestà intellettuale Soprattutto che ci contraddistingue Già da 5 anni A questa parte No Giuditta Sì Come vi dicevo Basterà legare i precedenti documenti E inviarli via email Istintorossazzurro ChioccieraGmail.com Allora Giuditta Abbiamo voluto Di proposito Fare a meno Del calcio giocato Non perché Facciamo contento qualcuno No Ma che ripeto Chi ha da criticare È sempre lì pronto Appostato nell'erba alta Fuoriuscendo la voce Senza mettere Metterci Nemmeno la faccia Poi Ce n'è di questa gente A Catania Come sempre Noi li deprechiamo Perché non ci riguarda A noi piace la gente che fa La gente che propone Soluzioni E che possa in qualche modo Anche quando fa le critiche Argomentare Le critiche sono sempre A ben accette Quando C'è Alla base Un ragionamento Costruttivo Che poi Possono essere anche Critiche forti Per carità È anche giusto Il tifoso Che fa l'abbonamento Ha tutti I diritti Per poter criticare Lo giama di turno Il curiale Che sbaglia Mungo La porta vuota Per carità Ed è giusto E lecito Però In questo momento Andando un po' Anche a fare Come dire Da collante Alle parole Di Romonaco Bisogna trovare Adesso Diciamo Bisogna trovare Il bandolo Della matassa Quindi Cercate di capire Adesso Cosa serve Di Di impellente Al Catania Per risollevarsi Per raggiungere Comunque L'obiettivo Magari Conclamato Chissà Anche Di vincere la Coppa Italia Perché mi sembra Comunque Un traguardo Fattibile Nella misura In cui Ci possa essere Una coesione Soprattutto Del gruppo Dei giocatori Che non vedo Attualmente Attenzione Nonostante i valori Ci possono essere Ripeto La Coppa Italia Potrebbe essere Un espediente Per arrivare Nella seconda fase Di eliminazione Quindi già arrivi Con Più di un passo avanti E meno partite Quindi puoi Recuperare Di più A fine Campionato Puoi ragionare Anche in vista Di ottimizzare Che ne so Il turnovere Tra le partite In esame Visto che sono partite Ad eliminazione diretta Quindi lì Ti aspetti Che il giocatore Di maggiore esperienza Tiri fuori Maggiore Maggiore esperienza Comunque Nella partita singola Piuttosto che Nel campionato In sé Fermo Pensando che Non è che Devi retrocedere Perché Comunque il Catania Si mantiene adesso A quattro punti Dalla zona Retrocessione E questa è la situazione In breve Da un punto di vista Calcistico Però noi non Abbiamo deciso Quest'oggi Questa sera Di non trattare I temi Relativi al calcio E di argomentare Invece quelle che sono state Le tematiche Messe sul banco Da Pietro Lomonaco In merito Alla conferenza stampa Di stamattina Giuditta Io innanzitutto Volevo da te Un parere veloce Sulla situazione Su quello che è L'epilogo Partendo dalla fine Come si suol fare In questi casi Partiamo dalla fine Dalle sue dimissioni Giuste Non giuste Sacrosante Giustificabili Tante le sue colpe Poche le sue colpe Dimmi ovviamente La tua opinione In merito Ma secondo me Qua è inutile Di parlare di colpe E apri il microfono Però È aperto Ok però Allora Andami da avvicinare Hai ragione Yes Qua secondo me È inutile parlare di colpe Qua però Stiamo parlando Che Pietro Lomonaco E io lo posso anche capire Perché sembra una persona Comunque Di 60 e passa anni Dopo una vita Gira per Catania Legge quelle frasi Gli dicono Di tutti i colori Allo stadio Si dovrà pur rompere Le scatole Questa persona Allora quindi Partiamo dal presupposto Che Che io giustifico L'aspetto L'aspetto diciamo Umano Tu stai trattando Questo discorso qui Quindi No no Io faccio ora Il confronto Il ping pong Faccio un ping pong Quindi Dal livello umano Capisco che lui Si senta Troppa pressione addosso E dopo una vita Dopo sacrificio Sentirsi dire Certe cose Non è bello Quindi alla fine Quello ha detto Ma a me Chi me lo fa fare E questo è un conto Ok E questo è un Da un altro conto Mi piange il cuore In una maniera assurda Perché secondo me Giusto Sbagliato Con il suo carattere Con gli errori Di valutazione Di giocatore Di tutto Ma era l'unico Che conosceva Per file Per segno La situazione del Catania E secondo me L'unico Che potreva Comunque Fare meglio Di chiunque altro Il risulto è questo Si parla di prospettive E di futuro No Come sempre I tifosi si sono attaccati Alla matricola Ora mi tirerò dietro Tipo Tutti Ma vabbè Ma perché Mi dispiace Nessuna opinione Vale meno di un'altra Attenzione Qua in Istinto Rosso Azzurro Non siamo per criticare nessuno Anzi Dite la vostra Se non siete d'accordo con noi Fatecelo Presente Tramite i commenti Tramite il 3409622807 Voliti Chiamare Voliti commentare Tranquilli Ragazzi Poi per carità Noi analizziamo anche Il Il seguito Cioè Il dopo Lomonaco Cosa sarà Che tipo di aspettative Potrà avere questo Catania Nel futuro Migliori Peggiori Cioè Questo non è lecito Saperlo Nella misura in cui In questo momento Il Catania non verte Da un punto di vista Economico E da un punto di vista Di progetto sportivo Nelle migliori condizioni Perché Veramente Ci sono Esempi Di Anticalcio Nel calcio Catania Di giocatori Che Meriterebbero Veramente Di essere Presi al calcio Nel sedere Lo dico francamente Proprio perché Comunque Ripeto Si va sempre A Sindacare Chi ci mette Ovviamente Quattrini E Diciamo La punta Dell'iceberg Però il punto Non è questo Il punto è Che se durante L'allenamento Tu Lo scatto Non lo fai E Te lo risparmi Se Se durante L'allenamento Litighi E già Lasci Presagire Una situazione Di spogliatorio Difficile Cioè Queste piccole Che possono Possono dirsi Piccole Problematiche A lungo Andare Pesano Nella misura In cui Non c'è Stato Forse Da parte Di Lomonaco Maggior Presenza Da un punto Di visto Sportivo O Chi per lui Magari Non ha Sopperito A dovere Nel senso Che magari Chi Doveva Essere Il suo vice Doveva Far presente Doveva Sradicare L'erbaccia Ancora prima Che l'erbaccia Divenisse Velenosa Ok Anche perché Ripeto Parliamo Di calcio Non parliamo Di calcio Ma tutto Gira attorno Alla situazione Del Catania Che è Disastrosa Se il Catania Fosse prima In classifica Diciamo che Saremmo stati Comunque Critici Da parte Sull'omonaco Su quello che È la situazione Economica Ma ci avremmo Passato Oltre Saremmo passati Sopra Da un punto Di vista Anche Umano Perché si parla Adesso Di Si parla Di problemi Di salute Problemi Di che Comunque Provengono Anche come dire Da una Situazione Pregressa Che il Catania Ha dovuto affrontare O almeno L'omonaco Ha dovuto affrontare Quando è venuto a Catania Per la seconda volta No? Quindi non tutte le colpe Sono di l'omonaco Le sue colpe Ne ha tantissime Perché Sono state tante Ma Provengono Da un assenteismo Derivato Da Un lavoro Malsano Che ha allogorato Anche la sua La sua Come dire La sua salute Personale Per mantenere La matricola 11700 In vita Ok? Visto che comunque Si parla di questo E nessuno Penso Nessuno a Catania Voglia Vedere La matricola 11700 Scomparire Perché Non credo che Lo voglia Lomonaco Non credo che Lo voglia Pulvirenti Nonostante io Non l'ho Non l'ho mai Condiviso Nelle scelte Dei treni del gol Lo dico francamente Per me Ripeto Tanto di cappello Per Quello che è stato Il passato Però È anche vero Che se Tanti meriti Che ha avuto Il Catania Da un punto di vista Mediatico Ha avuto tanto risposto Gran parte Del merito È dovuto Allo Monaco Giusto dirlo Anche perché Investimenti Terminate trattative Se ancora Noi Abbiamo potuto Suffrire Come ha detto Anche lo Monaco Di una parcella Derivata Da parte Di Castro Che è stato Venduto A tre riprese Diciamo così Lo dico in maniera Molto Molto Così Semplice Da capire Perché comunque Ripeto L'operazione Castro Si è distribuita In tre anni No Cioè la siamo portati Ancora al 2019 Castro Che non gioca più Nel Catania Da almeno cinque anni Quindi Questo vuol dire Che qualche merito C'è E tanti errori Gli errori Non sono stati Riconosciuti tutti Secondo me Dallo Monaco Ma Io penso Era molto provato Si è visto Comunque È una persona Ragazzi Cioè Non è che tu Giorno dopo il giorno Ti alzi la mattina Cammini con Moglie e figli E vedi Lo Monaco Puntini puntini Bla 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 Tutti Giustificabili Attenzione Perché magari Il tifoso Come dire Se la prende Con lo Monaco Perché non sa Non sa Da dove viene Il problema Noi La scorsa puntata Due puntate fa Abbiamo letto Il bilancio D'esercizio 2018 Potete andarlo a vedere Tramite La puntata Era la 185 La potete risentire Noi possiamo Comunque Sempre In maniera Spicciola Riassumervi Che il Catania Fino a due anni fa Aveva 6 milioni di euro Di debiti Che sono state ridotte A 4 Ok Subentrano Le faccende aziendali Giuditta No Che cosa ne pensi E' vero che c'è Ci sono tantissime colpe Perché se questi giocatori Sono stati scelti E stanno rendendo poco E' anche vero che la colpa E' di chi li sceglie Ma è anche vero Che tu non ti puoi aspettare Come è anche stato detto Che semenzato Non tocchi un pallone Dopo che l'anno precedente E' stato considerato Il miglior Esterno destro Della categoria Che ha vinto un campionato C'è tante problematiche Tanti Tante come dire Casualità Sono intercorse Diciamo A sfavore del Catania Ok Ora Che è il momento Di tirar fuori Come ho detto All'inizio Nel anteprima Questo istinto Rosso-azzurro Bisogna Rimboccarsi le maniche Tutti Guardarci allo specchio Vediamo chi è Che realmente Può fare meglio Di lo monaco Ok Mi rivolgo ovviamente Alla proprietà del calcio Catania Se sta già identificando Una figura Idonea Al Catania Anche perché abbiamo bisogno Adesso di sapere Questo No Chi può Temperare Alle problematiche Del Catania Meglio Di lo monaco Ok Ok Questo è il mio pensiero Perché è quello Che mi aspetto Te la posso dire una cosa Tu che vuoi dire Sì Quando si è andato Lo monaco Il 21 maggio Del 2016 Se non sbaglio Sì Siamo incappati Nella gestione Buon anno Pidino Ferrigno Quindi per questo Il dopo Non mi fa Ben sperare Perché già so Cosa è successo Quando Perché lo monaco 21 maggio O quanto Nel 2016 Se non sbaglio Nel 2016 è tornato Nel giugno 2016 è tornato Sì Sì Aspetta Comunque Nel maggio 2012 2012 Ok Vabbè Sì Vabbè Non ti preoccupare Comunque Quando Lo monaco Dice Io me ne sono andato E ho lasciato Un'azienda Perché si parla di calcio Catania No il gioco Il calcio Ma azienda Con un attivo Una liquidità Circolante E poi Torri De Grifo Stesso Che comunque faceva Tantissimi Introni Ma tu parla proprio di liquidità Lascio io Un'azienda sanissima Senza un centesimo Di debito Con una liquidità Abnorme Torno Aspetta Trovo quello Aspetta Tu parli della tria De Pitino Ferrigno Bonanno Che a sua volta Faceva riferimento Me lo ricordo benissimo Alcune delle loro conferenze stampa Erano Mirate esclusivamente A Pablo Cosentino Perché Diciamocela tutta Il problema principale È stata La gestione Cosentino Che poi la gestione Cosentino Non sia stata Ben Come dire Salvaguardata Dalla triade E un altro discorso Ancora Perché io mi ricordo Ancora Gridano vendetta I 350 mila euro A Kalil Uno che avrà troccato Sien o tre palloni Tutto l'anno Questo l'ha fatto Bonanno Bitino e Ferrigno Ok Loro stessi Che comunque Si difacevano Alla gestione Di Come caspita Si chiama Di Cosentino Cosentino Che offrì 800 mila euro All'Eto Stiamo parlando Di Sebastian All'Eto Rotto per tutta La stagione E poi Si è riproposto Per In serie B Per fare A modo suo Le faville Prendeva Un rosso sì E un rosso sì Pure Una giornata sì Una giornata pure Infatti siccome Già avevamo venuto Allora A Cosentino Siccome le sfighe Non vengono mai da sole No Siccome le sfighe Non vengono tutte In una volta Vengono sempre A spizzico e bocconi Quando tu accumuli 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 Quindi soldi di là Suppilu Suppilu Si dice Ok Giuditta Quindi Da un punto di vista Aziendale Io posso rimproverare All'omonaco Negli ultimi tre anni Quello di non aver fatto Delle scelte coraggiose Ma sfido Chiunque Al suo posto Ad averle fatte Invece Al suo contrario Cioè Di aver confermato Persone che Modestamente Con grande affetto Come Lodi Come Sebastian Come si chiama Christian Shama Come lo stesso Biagianti Che non me ne voglio Attenzione Ma giocatori Che comunque Non possono offrire Nel tempo I 90 minuti Ok Perché nel tempo Giocatori di questo tipo Non ti possono garantire Proprio Competenza Completa In tutti i reparti Ora Io apprezzo Comunque L'umano Che c'è sempre da dire Questo L'impegno Di giama La professionalità Di Marco Biagianti Di Giovanni Marchese Stesso Che comunque Si è visto Costretto quasi A stare Ai margini Del progetto Tecnico E non ha mai detto Una parola Attenzione Questo è giusto Ribadirlo Però è anche vero Che ripeto Contratti triennali Di questo genere Hanno Non hanno permesso Che il progetto Tecnico Diciamo Ripartisse Nel migliore Dei modi Ora Fatta questa premessa Non possiamo Dare tutte le colpe Allo Monaco Come se lui Fosse l'unico A A dover Andarsene Perché Se se ne va Allo Monaco Abbiamo Come dire La situazione Tranquilla E avremo Cento punti In più Cioè Io non capisco Una cosa Ragazzi In un'azienda Ci sono delle componenti Che devono tutte Girare Devono girare I magazzinieri Devono fare il loro lavoro I medici Devono fare il loro lavoro Scaltriti in sé Comunque Tutto l'aspetto Della comunicazione In merito All'azienda Calcio Catania I giocatori Ma se Io voglio dire Mi soffermo un attimo Su un giocatore Ma un giocatore Che prende Centocinquantamila euro A stagione E Si viene Si vede Asfaltato In partita Da un ragazzo Del 2000 Come spesso Successo Cioè Ma non se la fa Un attimo Un esame Di coscienza Di dire Ma io Questi centocinquantamila euro Me li merito Attenzione Nessuno Direbbe No Non me li merito Stiamo facendo fantascienza Stai parlando per fantascienza No Io non sto parlando per fantascienza Però sto cercando Di dare a Cesare Quel che è di Cesare Perché se Tu ti vedi asfaltato Da un ragazzo Che ti fa Ti doppia Durante la partita Ti gira attorno E ti fa anche le linguacce Dico Un attimo Come dire Anche per Russura personale Per Orgoglio Dovresti Dovresti un attimo dire Soffermarti Dici ma io In questo momento Sono o non sono Meritevole Della parcella economica Che percepisco Dopodiché Ognuno di voi Può dire Sì ok È vero Ma Questo giocatore A questo giocatore È stato Presentato il contratto È il contratto Che l'ha fatto la Monaco Benissimo Ok Siamo d'accordo Ma Sulla base Di una fiducia Reiterata E questo è stato l'errore In giocatori Che ormai Sono alla frutta E non dire Che ci stiamo qui A girare Attorno Che si è visto Tutto quello Che possono dare Ora Se Vogliamo parlare Dell'azienda Chi che sia Deve Parlare con numeri No Giuditta Altrimenti Facciamo fantascienza Siccome Ripeto Io Ho fatto Un discorso Poc'anzi Relativo All'orgoglio Ai sentimenti Che comunque Ci sono Inutile Negarlo E hanno Una Una parte importante Soprattutto In uno sport Così amato Come il calcio Che vive Di emozioni Le emozioni Non li provano Solo i tifosi Attenzione Li provano Anche i giocatori Ma i giocatori Stessi Che in questa situazione Ripeto Secondo me Hanno offerto Meno Ma molto meno Rispetto a quanto Percepiscono A livello di parcella E lì E' stato bravissimo Lucarelli A fare Un A mettere Diciamo Su Un motto Un claim Importante No Dicendo che I giocatori Sono pagati Per presentarsi All'allenamento Ed allenarsi Tutti i giorni Non sono pagati Per giocare La domenica Perché quella E' una scelta E' un onore E' un onore Ovviamente anche Dell'allenatore Convocare Chi ti serve Per il match Della domenica E' giusto Giuditta? Si Ora Da un punto di vista Sportivo E' questa la situazione Qualcuno che debba In qualche modo Farsi un'enorme Mea culpa Per la situazione Perché non può essere Solo lo Monaco In questo momento A dover dare Dimissioni Perché Altrimenti Ripeto Io non credo Che il problema Si risolva Mio Modississimo Parere Poi c'è Da dire un'altra cosa Chi magari Fa Come Il sindaco Pogliese No? Proclami L'ugida a noi In mischiarci Nella politica O di parlare Di prodigio Ma di che cosa Io mi parlo Ma di che cosa No Non c'è niente da parare Nel senso Quando si fanno I proclami Di aiuto Poi Si devono Si devono mettere In pratica Perché è facile Dire Ok C'è bisogno Di una situazione Dopodiché Bene Si affrontano I problemi assieme Inutile Puntare il dito In questo momento Non serve Servono Soluzioni E gente Che in silenzio Aiuta il Catania Nel suo piccolo Nella sua Nelle sue possibilità Ma qui c'è Tolo Monaco E' bello E' facile Farsi grandi Col Catania E allora E' bello E' facile Farsi grandi Col Catania Ma non può essere Solo Monaco La chiave Per risolvere Gli attuali problemi Del Catania Questo è vero Mi sembra Che comunque Ripeto Poi potranno Giocare Al 3000 I giocatori Mi farei due domande Se dalla prossima partita Dovrei vedere Pinto Fare avanti e indietro E fare tre gol Allora mi farei delle domande No Vuol dire che Veramente era un problema Lo Monaco Ma loro stessi Non erano capaci Di Esprimere Il loro dovere Anche con lo Monaco Quindi disonesti Anche da un punto di vista Lavorativo Anche perché Io a prescindere Che c'è una persona Un mio collega di lavoro Un mio principale Che mi dice Che mi sta antipatico E il mio lavoro Lo faccio lo stesso Se sono una persona Onesta Allora vuol dire Che il Catania A livello umano E' composto Da personacce Che non si meritano Di intestare La maglia rossa azzurra Ok Su questo Per carità Molte Molte persone Non si conoscono Neanche dopo 40 anni Che stanno insieme Figurati Come può fare Un amministratore delegato A sapere In maniera recondita Che cosa Ha intenzione Un giocatore Quando gioca a pallone Se vuole dare il suo 100% Oppure di proposito Sta facendo peggio Di quanto potrebbe fare Lo puoi sapere Ti basi sui curriculum No Tu curriculum Quello giocatore Parla chiaro Bene Perché non può giocare Al Catania Penso che comunque Ripeto A livello di curriculum Di Di quello che Abbiamo visto A Catania Nessuno può dire Che sono arrivati Giocatori Non adattanti alla serie Ecco Sono arrivati Di giocatori Importanti Che hanno Ricevuto anche Colpevolmente In questo caso Stipendi E contratti Longevi Troppo longevi E che hanno dato Poi In fin dei conti Molto Poco Cioè Pochissimo Quindi questo è il problema A fronte Di questo problema Là Un tentativo Di soluzione È partito Dallo monaco stesso Con le sue dimissioni Dice Allora ragazzi Il problema Sono io Rassegno le dimissioni Dal direttore generale Del calcio Catania E propongo Le mie dimissioni Al CDA Del calcio Catania Come amministratore delegato Attenzione Questa è la situazione Che chi ne possono dire Altrimenti Questo è stato molto chiaro Abbiamo appreso Ne prendiamo atto Però Ripeto Giuditta Si parla di azienda Si parla di numeri La partita Contro la casertana Qualcuno dice Ah È brutto Vedere Una partita Dove non c'è Modo di Vedere neanche I tifosi Allo stadio Ma questo è una situazione Che Dove il Catania Poteva fare di più Ecco Questo vuol dire Dove è che E se si Dico La domanda è questa Ai tifosi Se il Catania Poteva fare di più Quando Poteva fare di più Perché se Tre giorni prima Della partita La World Service O Kik per l'oro Comunque Eh Hanno Rassegnato le Come dire Loro di missioni In merito Alla presenza All'evento Penso che In tre giorni Andare a prendere 105 personaggi Steward Certificati Quindi col certificato Quindi abilitati Non è facile Ripeto Vorrei vedere Chi al posto Di Romonaco Possa Possa fare meglio Ma li hanno cercati Si Sono andati a Palermo Messina Trapa Ne sono Allora il Catania È riuscito a racimolare In totale 37 Steward Certificati 20 Vigilantes E 20 Ausiliari Di cui gli ausiliari Non avevano il certificato Quindi diciamo Erano i ragazzi Che si sono Prestati al servizio Senza avere la certificazione Ma in merito a questo Quante sono le colpe Del Caccio Catania E quante Quelle di chi Si professa Tifoso E che ha fatto magari Solamente Come dire Propaganda Non c'è bisogno A questo mondo Di chi Si proclama C'è bisogno di gente Che si sbraccia Che si alza le maniche E dice Io ci metto faccia Ci metto denaro Ci metto forze economiche Forze lavorative Anche un minimo Come dire Di passarsi la mano Per la coscienza Se la situazione È questa E si deve In qualche modo Fare Di necessità A virtù Non lo può fare Solo il Catania Allora il Catania Sì Quello sì Quello sì Quello sì E tutti gli altri Ah sì Però comunque L'omonaco E la mono Non è a difesa Dell'omonaco In sé Da un punto di vista Dell'amministratore Delegato Ripeto Ne abbiamo sempre parlato Abbiamo sempre detto Chiaramente Quali erano le colpe Da un punto di vista Del progetto sportivo Molti giocatori Conformati Che sarebbero stati Cioè Dovevano essere Allontanati Già a suo tempo Ma fondamentalmente Giuditta Ripeto Fino a che Possiamo dare colpe Al Catania Soprattutto la partita Contro la casertana Ma io direi Che dopo che Si paga tutto Dentro quello stadio E non solo Con note e bastoniati Magari affittadina Che colpe Gli vuoi dare In questo caso Ma non a Pietro Loma A calcio a Catania In generale Perché io Ad esempio Comune Che lo stadio È di mia proprietà Ecco Rientriamo In un altro Un altro argomento Riguardo Lo stadio Io comune Che sono proprietario Dello stadio Ne detengo La proprietà Lo vado A curare No? Quindi fare la semina Io non ne capisco Una ceppa Quindi In caso aiutami tu Vado a fare la semina Vado a innaffiare Quello che è la semina Allora Io sono il proprietario Allora Te la metto da questo punto Dice Sono il proprietario Di un bar Do la gestione Ad un'azienda Ok Do la gestione Ad un'azienda Del bar Ok Si rompe La macchina Del caffè Che si fa? Chiamo il proprietario Sì Salve Scusi Signor proprietario C'è questo Si è rotta La macchina Del caffè Siccome I caffè E i caffè Giustamente I cristiani Volano A mattina Non è che Io lo puoi privare Così come È necessario Innaffiare In questo caso Annaffiare Il campo Quando c'è la semina Perché Se dopo 15 giorni Tu non annaffi Il seme muore Perché si brucia Allora Devi riseminare Quindi è la semina Che ti è costata Soldi In quanto materie prime In quanto Personale adibito A Vuol dire A seminare Su tutto il campo È normale No Che comunque È una perdita economica È questo È quell'altro Ripeto Poi tutte queste voci Che sono Da un punto di vista economico Vanno a sommarsi E tu magari Se ti devi prendere Come dire Il Faccio un esempio Il Come si chiama L'attaccante Che ha seguito Il Catania Spesso Per esempio Giocatori come Antenucci del Bari Per esempio Questi qua Non te li puoi permettere Perché Comunque Ma non è anche questo La monaca ha detto Anziché spendere Quei 900 mila euro Di gestione Dello stadio E in più C'è anche L'affitto del campo Che facevo Questi 900 mila euro Se I proprietari del campo Avessero Diciamo Adempiuto Ai loro Doveri Io questi 900 mila euro Me li scalavo Dai debiti E ad oggi Anziché essere Quattro Erano tre milioni Ma io credo Che comunque Siamo tutti Sotto questo cielo Dico una frase Banale Ma anche quando Non fosse stato Di competenza Dell'amministrazione Comunale Giuditta Avremmo Apprezzato Meno proclami Più fatti Questo è quello Che ha detto Comunque la monaca Perché è troppo facile Sparare sulla croce rossa Troppo facile Dire Il Catania Necessitava Delle dimissioni Di lo monaco Ora voglio vedere Chi potrà fare Meglio di lo monaco Che si facciano avanti Che si trovi La figura Opportuna Che possa Adempiere Ai doveri Come l'ha fatto Lo monaco Anche dal punto di vista Esattoriale Mettiamo da questo punto di vista Perché tutti i creditori Che il Catania Ha dovuto gestire A cui Ho dovuto dare Anche denaro Sono A sua detta Giusto Lavoro Presenza Anche il credito Che ha lo monaco Come dire Perché comunque È una persona Conosciuta Ha i suoi ganci No Ha potuto Come dire Far fronte Grazie alla sua immagine A delle scadenze Magari Dilazionandole Così come È stato detto No Sì Quei 4 milioni Sono praticamente Dilazionati Dilazionati Perché sono debiti Con l'agenzia delle entrate Se non sbaglio Sono questi Dilazionati Dilazionati Che ha potuto dilazionare Ma io dico ora Lo monaco Il signor Pietro lo monaco Li ha potuto dilazionare Se ci va un bingo Se ci va un bingo pallino Fino a che punto Li può dilazionare Questa è la mia domanda Ma non lo sapremo mai Fino a che Non ci sarà Una nuova Figura Messa lì Che possa fare meglio Di Pietro la monaco Ma ci credo poco Da un punto di vista Sportivo Da un punto di vista Sattoriale Quindi gestione aziendale E quant'altro Ripeto Ma non è Il discorso però era un altro Allora Si è sbagliata a monte Visto che lo monaco Comunque già aveva Questa grossissima Incompenza Incompenza Si muove Si muove tutto Incompenza Di occuparsi Del Della parte amministrativa E' ovvio Che non può fare Il massimo Nella parte sportiva Ma l'ha detto Ed è anche Diciamo comunque Una missione di colpa No Ma umanamente Cioè La sua assenza E' come quando Ti chiedono al lavoro Di fare due cose Contemporaneamente Non le puoi fare Farei male entrambe E anzi Lui La parte amministrativa Secondo me La svolta Egregiamente Perché Se voi ci pensate E' vero Quanti soldi Dove uscire il Catania A parte le 6-700 persone Che lavorano lì Tutti gli addetti ai lavori Tutti quelli che fanno Diciamo che Il torre del grifo Riesce Riesce Ad ottemperare A questo problema Da solo Ecco No ma Comprese anche Però il fallimento Il fallimento del Catania Per chi magari Si auspica questo No Giuditta Comprenderebbe Anche mandare a casa Queste persone Queste famiglie Ragazzi Dico Quando devi pagare Le famiglie Tutte le messe a regola Perché funziona così Se io Da torre di lavoro Ti pago 100 euro Io allo Stato Ne devo dare altri 100 Quindi quando parliamo di uno stipendio Anuale di 150 mila euro Parliamo di altri 150 mila euro Di conti Allora E ok Quindi questo è il problema Non ho capito il perché Non ho capito il perché Non si sia stata fatta una cosa a parte Per i giocatori Visto Gli stipendi Esosi Che hanno L'asso calciatori Ci ha messo Zambino Da questo punto di vista Il discorso è un altro La colpa è stata Non aver Risolto Questi contratti O ancora a monte Aver fissato Dei contratti Così onerosi A giocatori Che comunque Nel tempo Non ti potevano più garantire Lo stesso Apporto Parlo di Lodi Non perché Lodi Sia Il mio Il giocatore Che mi sta Sulle scatole Detto così francamente Ma proprio perché Ripeto Lodi Ha bisogno Già lo aveva bisogno A 21 anni Che non è stato mai Un corridore Quindi non è uno Che ti sa tenere Il centrocampo da solo È uno che ha bisogno Di due corridori Quindi quando metti Uno come lui Devi trovare Due custodi Che possano correre Per tre volte Di lui Certo Se già uno di loro Di questi due Dovesse in qualche modo Rendere Al di sotto Del per due Ecco Alliello proprio di corsa È chiaro Che comunque Non Non Imbarchi acqua Imbarchi Da tutte le parti Da tutte le parti La difesa Sbaglia Il portiere Va in difficoltà E poi ovviamente Perdi le partite E che ha big goal Questo abbiamo detto Abbiamo detto Più volte Quello che è stato L'errore A monte No A aver fissato Da punto di vista La gestione romana Che aver fissato Contratti troppo Neerosi E giocatori Che comunque Oggi Non sono utili Neanche per fare La o col bicchiere Ora Perché ci ama Perché Che giocatore Ripeto Con tutto il rispetto Perché l'impegno L'impegno Ma onestamente Ripeto Fa tre passi Prende palla Si impegna Perché torna indietro Con le mani nei fianchi Non è proponibile In serie C Anche perché lì si corre A da quanto Quattro anni Che siamo lì A da quattro anni Che diciamo sempre La stessa cosa In serie C Si deve correre Quindi meglio Venti ragazzini Dei cui undici Buttati nel campo Che Magari delle vecchie glorie Che per carità Hanno fatto benissimo Al Catania Giusto Nulla togliendo questo Però in quel caso Non serve In quel caso A me mi serve Il ragazzino Che corre 3000 all'ora Ecco Un giovane Hizco Mi servirebbe Però il giovane Ovviamente Ha bisogno anche Di crescere Nel contesto Più opportuno Allora Fai Un po' E un po' Metti lodi Avanti Tieni lodi Perché ha molta esperienza E ci metti Però un garosi Giuga di cur Che corre A 3000 Allora Io Devo anche Guardare Bisogna guardare Tutto da lontano No? Sì Per poter giudicare E dare I giusti giudizi Quattro operazioni Del settore Giovanile Perché L'uomo Che ha portato In serie A Come si chiama Il ragazzo Quello che è andato Al Milan Sì L'ho capito Comunque Quattro operazioni Tra Milan Sampdoria Torino E Verona Che porteranno Quindi è un credito Inattivo Che porteranno 500 600 mila euro Sì Le casse del Catania Ripeto Un bitino O un ferrigno Con tutto il rispetto Non ci sarebbero riusciti A farle Non ci sarebbero arrivati Secondo me A fare una cosa del genere No No proprio Quindi Io voglio capire Perché poi Tutti questi È facile Come dire A tavola Conzata Quando tu ti pari Apparecchiano Puliziano Capito A settare Nei mangiare E dire Oh che buono Questo piatto di pasta Poi c'è stato Chi ti ha cucinato Per te E no Troppo facile Noi ne sappiamo Qualcosa Nella storia Di Stinto Rossazzurro Non so Ma anche giudicare Come è stato fatto Quel piatto di pasta Capito Allora Ragazzi Ripeto Se Il problema È l'omonaco Lo capiremo Nel senso Vuol dire che Vedrei Vedrò Pinto fare Dieci volte Avanti indietro E correre A 3.000 all'ora Vedrò Calapai Zittari In grosso Mischino Perché Con i piedi È acchiappato Vedrò Curiale Per forza di corsa Dribblarsi E fare ancora meglio Di quello che ha fatto E quindi fare 3-4 gol A partita Vedrò Lodi Correre A più Non posso No quello no Pietro Vedrò Furlan Per Per sua Fortuna Deviare un pallone Non più Centralmente Ma Che l'acchiappa Lateralmente Come ogni Sacrosanto Portiere Di Scuola Calcio E 5 Anche E 5 Sa Quindi anche Nel calcio E 5 Nella scuola Calcio Si insegna Che il portiere Deve deviare Il pallone Di lato Ma Furlan Questo non lo capisce Dico Vorrà dire Che tutte queste Problematiche Il Catania Da quando non ci sarà L'omonaco Non ci saranno più Ok Che vuoi dire C'è gente Che è convinta Di questo Quando ragazzi Davvero Non è così Perché saranno sempre Chi stessi Ora Se capita questo Se capita questo Dobbiamo Capire un'altra cosa Vero era che il problema Era l'omonaco Dillo Dillo Ma c'erano persone Che remavano contro E allora Se tu remi contro l'omonaco Remi contro il Catania Calcio Perché se il Catania Perché se tu sei vinto Ripeto E hai un problema Di carattere personale Con l'omonaco E giochi In maniera Improponibile Giochi Oddio Un efemismo Sei contro I rifosi Sei contro La storia del Catania E sei deleterio Alla causa Ok Quindi Voglio dire Che tutti si prendano Le loro responsabilità In ex equo Perché Ripeto Troppo facile Dare la colpa all'uno O all'altro E dire Quanto si è sbagliato Ora servono le soluzioni E chi Possa In qualche modo Rendere Da un punto di vista Prima di tutto Umano E poi Caratteriale E poi Calcistico E poi Atletico Perché è troppo facile Ora Una domanda Ce l'ho E che mi Tassa Da Stamattina No Ho sentito Dobbiamo verificarla Questa notizia Attenzione Le dimissioni Anche di 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 Cristian Argurio Dall'Aiduc Spalato Quindi Questo vuol dire Che comunque Il destino Di Argurio Almeno Dobbiamo decifrarlo Così No Giuditta Il destino Di Argurio È legato Alle sorti Di Pietro Lomonaco In qualche modo Però è anche vero Che Se Lomonaco Non è stato Presente Da un punto di vista Sportivo Nella quotidianità Del Catania Perché Doveva Gestire Quelle 100 120 Transazioni E ripeto 100 120 Transazioni Parliamo Di soldi Che il Catania Calcio Doveva fornire A suoi Creditori In merito a Inatempienze Provenienti Dagli anni Passati Dalle gestioni Passate Quindi Se Lomonaco Non c'è stato Materialmente Quindi è stato assente Chi per lui Dove essere presente Chi Argurio Uno che ha già Dato le sue dimissioni A suo tempo E che adesso Ha ridato Delle dimissioni All'Aiduc Spalato Siamo alla follia Ho smanettato Un attimino Sì A quanto pare Il giornalista Gianluca Di Marzio Che non stiamo parlando Di Pingo Pallino Stiamo parlando Fonte autorevole Comunque Senza dubbio Ha già confermato Quanto appena detto Quindi che Cristian Argurio Ha dato le dimissioni E poi Nel frattempo C'è scusami Petulla Che smentisce Argurio Non torna a Catania Perché Cristian Argurio Tornerà in Italia L'ex direttore sportivo Del Catania L'ha detto Gianluca Di Marzio Ma nessuno ha detto Che tornerà a Catania Stiamo dicendo Che il suo destino Sia in qualche modo Collegato Alle sorti Alle vicende Accadute Stamane All'Omonaco Le dimissioni Le ha date lui Quindi automaticamente Sono arrivate Le altre sue dimissioni In qualche modo Come dire Qui c'è scritto Tuttavia Il dirigente Ha risolto consensualmente Il contratto Con il crebo croato Ed è eminente Un suo ritorno Alla squadra siciliana Dall'altro lato Pedulla dice Non ritornerà Al Catania Quindi Gianluca Di Marzio Conferma Il suo possibile ritorno Al Catania Mentre Pedulla dice Di no Vabbè Ma siamo sempre Come dire Nello stesso Circolo vizioso Dove i tifosi Non dovrebbero mai Entrare Anzi Vi consiglio Momentaneamente Di Prendere queste Allora Che siano ufficiali Le dimissioni È normale Che altrimenti Non potremmo parlare Di questo Però che Da qui a dire Che Argurio Possa ritornare Al Catania Mi sembra Prematuro Ecco Mettiamo da questo punto di vista Però ripeto Tutto questo Come dire È strano Tutto questo È molto strano È super strano E bisogna vedere Chi Realmente Può fornire Le soluzioni Per arrivare Diciamo A giugno Prossimo Del 2020 Nelle condizioni Migliori Con le prospettive Migliori Per i tifosi Quello che si aspettano Il prossimo anno Due anni Tre anni Progetti Fare concretamente Chiarezza Al momento In cui Si chiede Non Come dire Tralasciando Particolari Io apprezzo Di Romano Che una cosa Certo dal sito Dell'Ajax Dell'Ajduk Spalato Ok Quindi se anche L'Ajduk Spalato Ha confermato Le dimissioni Di Cristiano Argurio Così è A meno che Abbiano voglia Di passarsi il tempo Quindi non credo proprio Ora Detto questo Ripeto Giuditto E così possiamo Leggiamo Staggianti Maggioranza Sostenitori Catanese Apprezza Il lavoro Fatto Dallo Monaco Comunque Si ringrazia Il sindaco Di Catania Per la Infelicissima Uscita Vedete Vedete Ragazzi Catano Buon accorso Rileggo Il messaggio Se l'ho letto In parte In testa In parte Che stavo Riflettendo Anche sulle parole Assolutamente Noi I tifosi Catanese Non sono Quattro contestatori A prescindere La stragrande maggioranza Dei sostenitori Catanese Apprezza Il lavoro Fatto Dallo Monaco Comunque Si ringrazia Il sindaco Di Catania Per la Infelicissima Uscita E il riassunto Di quello Che abbiamo Detto Pur Analizzando Noi lo facciamo Sempre Noi abbiamo Sempre analizzato Partita Dopo partita Quali erano Le problematiche Di spogliatoio Di Passaggi Sbagliati Di Goal Sbagliati Di Dichiarazioni Infelici Nel pre-partita Nel post-partita Abbiamo sempre detto Qual era la situazione La dimensione Del problema Attenzione Ma che Questo Possa essere Tutto Riconducibile All'Omonaco Tutto In toto Mi viene un po' Come dire Da manca Da manca Proprio detto Francamente Ragazzi Proprio perché Non tutto Se l'Omonaco Non c'è Ripeto Non può essere che Tutti gli altri Facciano il loro dio Ok E che facciano Quello che volevano Ora io ho visto Dichiarazioni anche Di ex giocatori del Catania Infelici Troppo facile Parlare Quando non sei più Un giocatore del Catania Festeggiare C'è veramente Professionalità Zero C'è questi giocatori Per me Non potranno più Giocare a calcio Ma nessuna società Ma chi si può permettere Un giocatore Una persona Prima che ancora Un giocatore Che Contesta L'operato Di una società Ma così Maradona Sicca fu Non lo so Giocatori che veramente Dall'alto dei cieli Parlano adesso Parlassero Quando erano Tesserati del Catania Perché non lo facevano Perché tutti Quando se ne sono andati Dal Catania Hanno cominciato a parlare Prima no Troppo facile Ripeto È troppo facile Perché se si vuole aiutare Si è tutti coesi Alla causa del Catania I problemi si Si affrontano Al momento in cui Sorgano No Quando non ci competono più Quando la problematica Non ci tocca più Prende Si fa Si fa voce È sbagliatissimo Ripeto Non è una tattica aziendale E ovviamente Le colpe Anche Di Lomonaco Perché queste persone Sono passate Per i lidi Rosso-azzurri Ce le abbiamo fatti passare noi Ma è anche vero Che tu non ti puoi immaginare Che queste persone Abbiano veramente Così tanta Poca Così poca Professionalità Nessuno Si può immaginare Così come Nessuno Può immaginarsi Che Giocatori di questo genere In questa stagione Possano dare Veramente Lo 0,1% Di quanto Realmente Sono stati valutati A livello anche economico Sul sindaco di Catania Abbiamo già parlato Ripeto Gli aiuti Gli aiuti Quando si parla di aiuto Ripeto Io non vado Da tizio Cale Sembronio Che sta Morendo di fame E dico Ah tu perché non mi hai chiesto Che stavi morendo di fame Io non mica lo vado a dire Hai bisogno di una mano? Bene Senza fare programmi Sui social network Senza Puntare il dito Senza Istigare Perché l'istigazione In un momento di questo Dove si è Tutti impegnati Ad affrontare Delle problematiche imminenti Come possono essere Scadenze Come possono essere Crediti verso fornitori La situazione Dei steward E quant'altro Bene Si faccia il proprio lavoro In silenzio In punta dei piedi Con tutta l'umiltà possibile E dopo Dicendo Io La mia parte l'ho fatta Ma dopo Dopo Troppo facile dirlo Prima Quando c'è un problema E dire Ma non è competenza mia A me non mi compete Il pop up Non è Non è una cosa Che mi riguarda In quel campo Ci giocano Cane e Porci Ed è vero Abbiamo ospitato Anche un'altra squadra Di serie C Ce lo siamo Divindicati Negli scorsi anni Romonaco Forse non l'ha accennato Comunque l'ha accennato In maniera velata Ma c'è giocato anche La Sicola Leonzio Ma perché L'altro giorno Non è venuto a qui L'Under 21 dell'Italia A giocare Allora E qualcuno potrà dire Ma l'Under 21 dell'Italia Porta lustro Porta lustro Porta al Catania Porta immagine Porta diritti Pubblicità Ma che cosa Sì Ma arriveranno i soloni Di turno E qui mi permetto Di usare Lo stesso appellativo Di Romonaco Pietro te lo giuro Sono passati davanti Il microfono davanti Giudice Sono passati davanti Al negozio in cui lavoro io Quattro ragazzini erano Cosa hanno portato Quattro ragazzini Ma vabbè Non è perché sono Quattro ragazzini Perché è l'Under 21 Dell'Italia Ma dopo Nessuno ci andava Oh l'Under 21 Per non scredito Chiaro Non sto screditando L'Under 21 dell'Italia Ma veramente Però sinceramente Dico i rusi Viene da giocare Nel nostro campo Campo Chi ha pagato E chi sta La manutenzione Se la sta pagando Tutta il calcio Catania Non Pietro Monaco Il calcio Catania Sono venuti a giocare da noi Per fare E che cosa Usufruendo di un servizio privato E il gasolio Che sta parlando di un privato E il gasolio Quando la partita è notturna Chi che lo mette Il Catania E non era notturna Quella partita Sì perché di mattina Scorazzavano In Viettennea Quindi Giuditta Di chi stiamo a parlare Troppo facile Fare i conti Senza l'oste Troppo facile Fare i conti Con le tasche Degli altri Io l'ho vissuto spesso Qui A Istinto Rosso Azzurro L'abbiamo vissuto spesso Anche nel Nel nostro Troppo facile Puntare il dito Contro uno O l'altro Dicendo che Quanto sia sbagliato Quanto sia inadeguato Vorremmo vedere voi Tutti quanti Chi magari ha Dall'alto Della propria carica Tutte le competenze Migliori a quanto Fatto da Lomonaco Cosa avrebbe creato Se già persone Che comunque nel calcio Siano state pure Come Pitino Bonanne Ferigno Rispetto ai problemi Che c'erano Non so pensare Chi possa Fare meglio Di Lomonaco Però Io Che sono Direttore sportivo Come faccio Ad andare La avanti Mi presento Nella commissione In azienda E dico Mi candido Per fare L'amministratore Delegato del calcio Catania Ok con quale esperienza Con quali numeri Ma che cosa Chi film ha fatto Ma potrei anche Per i numeri Ma io A me non mi viene Di farlo Cioè io Se conosco Veramente La realtà Del Catania Non lo faresti Perché non ti prenderesti Neanche questa patata bollente Ma troppo facile E allora Vedi che comunque Si parla sempre Di metterci la faccia Di Perseverare Su cause Perse Dette così Secondo me Se dimissioni Finisce in affetto No Io mi auguro Allora Il mio obiettivo È questo Che se Il Catania In quanto proprietà In quanto Antonino Polverenti Possa identificare Una figura Come amministratore delegato Migliore di Pietro Lomonaco Che possa risolvere Ogni problema Che c'è già Attuale No Scusate Problemi attuali Relativi Allo spogliatoio Alla Alla preparazione Atletica Deficitaria Di questa squadra Gente che Veramente Per me Che cosa fanno Secondo me Questi Quando si allenano Quando è che fanno Scatti ripetute Lo vorrei vedere Dico Tutte queste problematiche Vorrei vedere Chi Può Fare meglio Di Lomonaco Dopodiché Se dovesse Chiamarsi Pinco Pallino Prendere Un quarto Di stipendio Rispetto a Quando prendeva Lomonaco E fare meglio Di Lomonaco Tanto dico Pella A noi Non interessa Con tutto rispetto Per Lomonaco Se c'è Pietro Lomonaco Come ministratore Delegato O Pinco Pallino A noi interessa Che il Catania Possa Risollevarsi Che possa essere Realmente Una società Con prospettive Future Che possa mantenere Soprattutto E non solo Le famiglie Che operano A Torre del Grifo E che veramente Possa essere L'invidia Di tutto il nord Italia Perché comunque Società di questo tipo Con strutture di questo tipo Neanche al nord Italia Ci sono Attenzione Quindi Che dire In merito Giuditta I presupposti Sono questi Se dovesse essere La soluzione Le dimissioni Di Lomonaco Allora dovremmo fare Anche un plauso All'omonaco Per aver avuto Il coraggio Di rinunciare Il proprio stipendio Non tutti Hanno anche Questa Come dire Questo rigor Personale Perché A parte Petrone Che abbiamo Spesso contestato Per aver Abbandonato La nave Eccetera Eccetera Non credo Che ci siano stati Giocatori Del Caccio Catania Che abbiano detto Sì ok Ma io non voglio La buona uscita Sì ok Ma A me non tocca La mia parcella Il mio stipendio Hanno voluto Hanno Usato un efemismo Pisciato fuori dal vaso Lo dico Usando anche Questo termine Poco elegante Dai io ricordo Che ho un rosina Della situazione Perché Galil Perché Galil Lasciamolo perdere Signori Da Silva Gladestoni Ma me lo sono dimenticato Per un bonus Dico Ragazzi Non è che Sono passati Da qui Maradona Zico Pelè E Platini E Roberto Baggio Tutti quanti Hanno avuto Hanno avuto Modo di esigere I propri diritti Senza Rendersi conto Un attimo Comunque Di Della situazione Che avevi attorno E che magari Tante cose Potevano anche Evitarsi Anche non solo Ripeto Perché Di calcio si parla Il Catania È una squadra di calcio Comunque Che si può dire Altrimenti Anche gloriosa Tu spesso Mi contesti Forse io Sempre vicino al microfono Sono troppo Però io sono del pensiero Che quando Parlo anche a livello personale Il lavoro Per un'azienda Ne senti un po' L'appartenenza Il senso Di appartenenza Tu ogni volta No Io parlo sempre Di qualità umane Poi ci deve essere Sempre Il riscontro Dall'altra parte Perché Io conosco Te Non conosco Gli altri Giù di Anche l'operato In generale So Ma io da sempre Al lavoro So chi sei tu E so chi Ti avanza In livello Ok Nello specifico Non si parla Non si parla Di quattrini Come Come Gestiamo noi Qua si parla Di 100 150 mila euro E persone Che comunque Per 10 mila 20 mila euro In più Hanno veramente Mosso Mari e monti Per carità Anche giustificando Ma fino a un certo punto Ma fino a un certo punto Se io voglio il bene Della società Per cui lavoro Dell'azienda Per cui lavoro Cerco di dare una mano Se vedo che sta arrancando Arranco anch'io Ci sono di questo parere qui E Ok Soprattutto quando Comunque Guadagni Quelle cifre Allora Fermo restando Fermo restando Che Santi In paradiso Il Catania Non ne ha Da nessun punto di vista E che tutti aspettano Noi sciagalli Come dice lo monaco Perché dopo i sciagalli Secondo me Ci sono le iene Le iene mangiano Gli sciagalli E questo Che mi Mi spaventa Le iene Che mangiano Gli sciagalli Perché si Fino a che ci sono Gli sciagalletti Così Il re leone Insegna un sacco di cose Il re leone Insegna un sacco di cose Brava Quel cartone animato Dice tanto Quindi io ho paura Delle iene E poi Voglio vedere Chi Potrà garantire Un futuro Migliore Per tutti Non solo Da un punto di vista Sportivo Ma mi riferisco Per tutti In toto Per tutta la proprietà Calcio Catani Intesa anche Torre del Grifo E tutti i business Che stanno interni Con Le persone Che hanno Le mansioni interne E le loro famiglie Tutto qui Ripeto Però Deve esserci Questo tentativo Di soluzione Perché se Si fa l'errore Poi di Perseverare Su scelte Come alla Pablo Cosentino Perché se arriva Il Pablo Cosentino Di turno Io poi Smetto di diventare Un bravo ragazzo E qui E questi microfoni Diventerò un cannibale Non fosse altro Perché poi Ripeto Non è che può arrivare L'omonaco di turno Che anche Di tasca sua Perché anche giusto dirlo Ottempera le problematiche Create dagli altri Mi sembra un efemismo Tu lo faresti? No Scusa Io posso Posso Aiutare alla causa Anche rimettendoci Di tasca mia Quando Il problema Non nasce da me No Quando il problema Nasce da me Ed è già fatto Ed è stato già fatto Comunque L'omonaco nella sua parte Ha È stato d'aiuto In toto Ripeto Con il suo lavoro Con la sua salute E anche dal punto Di vista economico Perché è giusto dirlo Quindi fondamentalmente Stiamo parlando Del nulla Le dimissioni Sono state Presentate E quindi è il tentativo Di soluzione Di una persona Che il suo malgrado Comunque avrà anche Altre ragioni Perché Era palese Vistoso Soffrisse comunque Di qualcosa Che magari Alla sua salute Ormai ha raggiunto Un punto di non ritorno Non possiamo Ne ci auspichiamo Il peggio Per lui Anzi Ci auguriamo Il meglio Perché comunque All'idello umano Nessuno si augura Che l'omonaco Possa Possa avere il peggio Giusto Perché altrimenti Ci andiamo E ce ne andiamo Tutti quanti Andiamo a vendere A metterci Una maschera Da tutti i punti di vista Nessuno Non posso andare A vendere niente Perché vendere già Non mi metti Una maschera Ora Il punto è questo Il tentativo di soluzione L'omonaco Lo ha prestato già Quindi se il problema Sono io Faccio un passo indietro E rassegno La dimissione Ora la palla Aspetta la proprietà Che deve trovare La figura idonea A risolvere problematiche Interne Ok Altro da dire Non credo ci sia Se non I discorsi sui tifosi Ma i tifosi Ripeto Noi siamo Per i tifosi Noi siamo Il sintomo Azzurro La voce del popolo Giuditta Siamo A favore dei tifosi E' normale E' normale E' normale Che non potremmo Mai essere A favore dei tifosi Incivili Quelli che Ledono anche Le casse A favore dei tifosi Non dei delinquenti Perché lì poi Si va a favore dei delinquenti Non è giustificato In nessun Nessun contesto Che stiamo Giocando a carte O che stiamo Lavorando Che Andiamo a mangiare Di piatto Un barino Da camion A semi Il punto Non è questo Se veramente Si è tifosi Facciamo tutti Un passo indietro Come l'ha fatto L'omonaco No L'omonaco Ha fatto un passo indietro Bene Sono il problema Bene La segna di dimissione Tutti quanti Facciamoci un attimo Un esame di coscienza E vediamo Quanto siamo stati tifosi In questa stagione Nelle scorse stagioni Quanto Si è stato veramente Tifosi E poi arriveranno I soliti Ah ma io A ganci Oh ma io Mille chilometri Bene Quello Quello è il tifoso Ma se gli ha date Pietro l'omonaco Le dimissioni Le dovevano dare tutti Tutti Dal primo All'ultimo giocatore A questo punto Ma i giocatori Non lo farebbero mai Allora Allora vedi Vedi Leva tinta Non muori mai Come si so dire Un attimino Volevo vedere un attimo Il sondaggio Il sondaggio Scusami Giuditta Allora attenzione Faccio una premessa Sul sondaggio Non vogliamo Col sondaggio dire Sei dalla parte Di l'omonaco O non sei dalla parte Di l'omonaco Noi stiamo dicendo Se le dimissioni Di l'omonaco Per te sono Giustificabili Quindi se sei d'accordo Con le sue dimissioni Oppure no Ok Essere d'accordo Vuol dire che Il problema è L'omonaco Ha fatto bene Lui stesso A presentarle Non essere d'accordo Con le sue dimissioni Significa Come lo stiamo Chiaramente Manifestando anche noi Dire che Non era In questo momento La soluzione Più vantaggiosa Più vantaggiosa Ok Diciamo quali sono Le problematiche Cioè scusate Le percentuali D'accordo No Il sì Ce l'ha da maggiore Col 65% Mentre il no Col 35% Ragazzi Io ho votato no Vabbè Ma Non è importante questo Giuditta Il discorso è che Comunque le persone Pensano che Come dire Le dimissioni Di l'omonaco Siano La soluzione Migliore Ci vai tu Pietro Ad amministrare No giuditta Guarda io non ne ho Le competenze Ti chiami Pietro Francamente Qualcuno mi dice Che sono il Pietro Lomonaco Del digital marketing Però Però Non Cioè Onestamente Non mi sento Di poter prendere Mai questa Questa patata Questa patata bollente Perché non ne ho Le capacità Ma chi è che lo farebbe Con Non ne ho Sì ma chi ha un po' Di coscienza Chi lo fa Chi prende il suo posto Chi Ha già speculato Facendo del danno E che si è presentato All'uscio Della porta del calcio Catania Dicendo Io sono presente Ora A tavola Cunzata No Quando invece C'era bisogno Del pop up Faccio l'esempio Banale E poi No ma io Mico 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 Ma è troppo facile Una persona che comincia Tutto da zero Soprattutto Che comunque fa Un lavoro Come questo Malsano E poi chi magari A tavola Cunzata Come si sol dire S'ha setta e mancia Troppo bravo Diciamo l'applauso Non mi sembra opportuno Ora Io Apprendo Che i tifosi Siano in silenzio Ad ascoltare Le nostre parole Vuol dire che comunque Sono interessati E quant'altro Abbiamo apprezzato Le parole di Gaetano Bonaccorsi Che comunque Ha specificato il fatto Che la gran parte Della Forza catanese Ecco Da un punto di vista Di pensiero Vira Su altre dimensioni No Le decisioni Ovviamente Vanno Contestualizzate Nel Qual caso Ovviamente Quella Di Lomonaco Potrà anche Essere Fia Di Come ha detto Lui Ha rinunciato Anche a A fare A un intervento Chirurgico Il giorno 19 Quindi L'avrà posticipato Per problemi Suoi Per Per servire Alla causa Del catania Non lo sappiamo Per quale ragione Giusto Non l'ha fatto Quindi vuol dire Che già soffre Di qualcosa Che prevede Un intervento Chirurgico Questo va A prescindere Dall'amministratore Delegato Che è Il suo Lavoro Ok Ripeto Sono Fasi Adesso La fase Le dimissioni Di Lomonaco Potranno Avere un seguito Positivo Potranno avere Un seguito Negativo Potranno Suscitare Un orgoglio In più Nei giocatori Un esame Di coscienza Una presa Posizione Da parte Del capitano Perché siamo Troppo facili A prenderci D'orgoglio E dire Ah io sono Il capitano Tu non mi hai preso Per capitano Le parole E bla 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 Chi sarà il nuovo Direttore Pasquale Greco Una domanda Da un milione Da dieci milioni Di dollari Pasquale Greco Dice Chi sarà il nuovo Direttore Stiamo a vedere Anche perché Ripeto Da quello che sono Le fonti apprese Dalle maggiori autorità Da un punto di vista Dell'informazione Quindi giornalisti Ben più rinomati Ehm Con grande presenza Anche da un punto di vista Di serie C Ehm Sembra che Avendo dato Già le dimissioni All'Iduk Spalato O Spalato Ehm Possa essere Ehm Cristian Argurio Il più indiziato Questo non vuol dire Che lo sarà Attenzione Anche perché Alfredo Pedulla Smentisce Ehm Ma è anche vero Che io non vedo All'orizzonte Qualcuno che possa Fare le veci Di Lomonaco Da un punto di vista Di spogliatoio Ehm Sportivo E che possa In questo momento Della stagione Prendere questa patata bollente Penso che non lo farà nessuno Ma mi auguro invece Che Che possa esserci Una presa coscienza Da parte della proprietà Ehm Della situazione E di portare Ehm A compimento Il progetto Il progetto tecnico In qualche modo Aiutandolo Lomonaco Affiancandolo A una figura Importante Di polso Di carisma Ehm Magari non per forza Ripeto Ma che possa Diciamo Lui Lui Delegare Perché Magari lo può Delegare In mansioni Che lui stesso Non può affrontare Parlo di Lomonaco No Quindi delegandolo In mansioni Sportive Quindi avendo Più presenza In campo Negli allenamenti E quant'altro Si può far fronte Al problema Esistenziale Che Molti giocatori Fanno quello Che cavolo vogliono Perché è vero Quindi Anche Avendo un po' Più di pressione Durante la settimana Tu stesso Ti senti un pochettino Col culo a pizzoluni Uso Questi Termini così Perché è così Che si dice Nel calcio giocato Si dice così No Ti senti un po' Col culo a pizzoluni E quindi Dai il tuo 110% Non ho visto Ripeto In giocatori Con un grande curriculum Questo apporto Che è un problema Ci sia Già da tempo Noi l'abbiamo detto Durante le puntate Era palese Che c'erano giocatori Che rendevano Meno di quanto Ci si aspettava Ovviamente L'omonaco Non essendo presente Doveva delegare A qualcuno Che magari Non ha fatto Questo dovere Se è stato Un problema Di Cristiano Argurio Allora non può essere Il ritorno Di Cristiano Argurio La soluzione Attenzione Quindi Bisogna subito Trovare Una figura Che affianchi L'omonaco In questo frattempo E che possa Adempiere A doveri Da un punto di vista Sportivo Che adesso L'omonaco Non può Colmare Ok Questo è il quadro Che poi L'omonaco Ci possa ripensare Io me lo auguro Da un punto di vista Umano Da un punto di vista Che comunque Avendolo conosciuto Nello specifico Abbiamo potuto In parte comunque Costatare Che è una persona Che ci tiene Poi Ripeto E qui Concludo Con una Frase Di Nils Lidholm I rigori Li sbaglia Solamente Chi li tira E io generalizzo Ancora E' facile Criticare Chi scende In campo E si sporca La maglia Ok Chi ci mette La faccia Chi si prende Le critiche Chi sbaglia E chi fa anche Tante cose buone Nel frattempo Che magari Non vengono evidenziate Per comodità Di qualcuno Per Mettere Qualcun altro Sul piedistallo Per far avanzare Qualcun altro Ma è anche vero Ripeto Che non vedo Cordate Di imprenditori Che si stanno Acchiappando Fra di loro Per ottenere Il calcio Catania Penso E trovo Iene Pronte Per adempire I propri doveri Solo e soltanto Di fallimento Quindi In caso Di fallimento Al processo Daniele Cines Ci dice sì Quindi d'accordo Con le divisioni Va bene Noi Comunque Apprezziamo Come dire La vostra opinione Vuol dire Che l'omonaco È il problema Noi Ce ne rendiamo conto Cioè Possibilmente È vero Magari Certi giocatori Non hanno trovato In lomonaco Come dire L'ispirazione Per poter fare Di più Però Io penso Che comunque Se tu sei una persona onesta Ogni giorno Dai il tuo 100% Non possiamo dimostrare Il contrario Ma in campo Si vede Se durante la settimana Ti alleni poco Ti alleni male Tu Contro Un 2000 Contro un 2002 Ragazzo 2002 Fai male A compassa E questo è Quindi Onestamente Ripeto Contestializziamo Il tutto Ovviamente Sono d'accordo Con chi Magari Avrebbe Aspettato Prima di Dimettersi Avrebbe Voluto Che le dimissioni Fossero un po' Più ritardate Anche perché Non è Non è questo Il momento A stagione In corso Ripeto Troppo facile E Non Non lo reputo Giuditta Una soluzione Come dire Un tentativo Di soluzione Per Perché Perché Magari Come ha detto lui Non resiste più Agli epiteti Penso che Durante la sua Vita lavorativa In avere a sentire Di insulti Quindi Non credo che sia Questa La motivazione Per la quale Lomonaco Abbia dato Le sue dimissioni Credo proprio che Sia Qualcosa di più E io ripeto Voglio capire Chi può fare Meglio di Lomonaco Dopodiché Mi auguro che tutti Abbiano Le risposte Le soluzioni E che possono In qualche modo Dare un contributo In silenzio In punte dei piedi E senza fare Scalpori Che poi Si è troppo facile Così è troppo facile Ok Giuditta Giuditta Se tu hai Un pensiero A chiudere E poi Andiamo a concludere Quest'ennesima puntata Di Sintoro Sanzuro Noi ripeto Noi l'abbiamo detto Abbiamo parlato Di numeri Numeri che adesso Hanno un suo perché Delle giustificazioni No Ma li ha detti Lui stessi Non penso Che l'abbia fatto Pulvirenti Non penso Che l'abbiano fatto I altri Addetti ai lavori E comunque È stato l'omonaco A mettere In chiaro le cose In maniera chiara Questo è Dobbiamo prendere atto Di tutto Anche di questo E anche del suo Tentativo di soluzione Che È un Mea culpa E dire Guarda Se il problema Sono io Rassegnore di missione Ora avanti Avanti I dei Scesi in terra Ok Voglio vedere Ok Giuditta Mi sembra che Questa sia La chiusura Ottimale Anche perché Siamo a vedere Anche io la penso così Se ripeto Da domani Sono folle Se da domani Ripeto Pinto mi farà Dieci volte Avanti e indietro Palla al piede Asfaltando la fascia Facendo Una prestazione Da otto In pagella Se Esposito Dovesse prenderla Veramente una volta Di testa Dopo che non ne prende Neanche una Se Furlan La devia Per fortuna Di cose La palla La devia Verso Verso destra Lateralmente Non la devia Centralmente Quando un portiere Come già detto È risaputo Che deve Deviare il pallone Lateralmente Se tutte queste Problematiche Dovessero essere risolte Sia nello sportivo Che nello spogliatoio Che nelle casse Che nell'azienda In toto Bene Allora vorrà dire Che lo Monaco Alla fine delle cose Avrà avuto anche ragione Per l'ultima volta L'ultima volta Aver dato le sue dimissioni Bene Se ne prendiamo atto Viva E forza Catania Sempre Ok Questo È il nostro monito Speriamo che ovviamente Non venga travisato Come sempre Nell'ambiente rossazzurro Ci sarà chi Ci contesterà C'è chi Magari ci dirà Se siamo filosocietari Non ce ne frega niente Noi non Non siamo convenzionati Dal calcio Catania Non lavoriamo Col calcio Catania Questo lo fanno altri E quindi sappiamo anche Chi sono Non sono nomi sconosciuti Noi siamo un'associazione No profit Tra virgolette Detto questo ragazzi Un saluto E noi ci sentiamo Martedì prossimo Come di consueto Per parlare Spero Mi auguro Di calcio Catania E di calcio Nella misura in cui Ripeto Possono esserci Queste soluzioni Che porteranno dei frutti Mi auguro Che sia così Un saluto al vostro Pietro Santonocito E Giuditta Leotta E sempre E solo Forza Catania Ciao Grazie a tutti Ciao Si aprono i cancelli di questa città E in questo giorno un sogno diventa realtà Il sole è caldo e il cuore ci illuminerà Tutti insieme per le strade di questa città Un urlo risuonerà La terra rossa e il cuore ci colorerà Il mare con l'azzurro ci distinguerà Fra mille e diecimila colori vivrà La nostra la più bella per sempre sarà Un urlo risuonerà E vola Catania Dell'isola Signora Come una grande madre ci conforterà Prendendoci per mano ci accompagnerà Come fratelli uniti più forza darà L'abbraccio che del sogno farà la realtà Un urlo risuonerà E vola Catania Dell'isola Signora Cosa aspetti 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 Cosa aspetti